Ciao! Siamo di nuovo insieme alla ricerca del tuo stile. Qui troverai una pettinatura ispirata a Luna. Io, se fossi in te, non perderei altro tempo. Andiamo! Fase 1 Dividete una piccola ciocca laterale, create una treccia, fissatela con un elastico e giratela verso l'alto. Fase 2 Con un ciuffo laterale più in basso, fate partire una treccia più grande e fissatela con un elastico. Fase 3 Aprite a poco a poco tutta la treccia. Fase 4 Sovrapponete le due trecce e fissatele nella parte superiore e in quella inferiore all'altezza della nuca. Fase 5 Coprite con il resto dei capelli sciolti l'estremità inferiore della treccia. Benissimo! Adesso sei pronta a trovare il tuo stile con Soy Luna. Sovrapponete le due treccia. Abcam! E vapori dimistrano se vanno con un'alto, Sovrapponete la treccia. Sovrapponete la treccia. Grazie a tutti.